70 anni e non li dimostra. Vite Salute ha festeggiato l'anniversario a Firenze. Volontari e missionari ausiliari della Diaconia Ventista si contano online. L'appuntamento il 5 dicembre. Una targa premia il progetto Marciapiedi Didattico per sensibilizzare i ragazzi delle scuole a rispetto delle persone disabili. Sono alcune delle notizie di oggi. Benvenuti a una nuova edizione del Videogiornale Ventista, una produzione Opomedia Italia. La rivista Vite Salute compie 70 anni. L'importante traguardo è stato celebrato il 19 novembre a Firenze, nell'Aula Magna della Facoltà Ventista di Teologia. Tra gli ospiti anche il professor Franco Berrino, epidemiologo e direttore scientifico della rivista. Fondata nel 1952, Vite Salute è il primo mensile in Italia di divulgazione sui temi della prevenzione e della medicina. Negli anni la rivista si è rinnovata, rimanendo sempre attuale. Di recente è nata anche Vite Salute Web, una versione multimediale della rivista, con podcast e videointerviste. Scopri di più su vitesalute.net. Lunedì 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, si terrà un incontro online dalle 17 alle 18, aperto a tutti i volontari e missionari ausiliari che offrono servizio all'interno degli enti della Diaconia Ventista, cioè AISA, ADRA, Fondazione Adventum, Casa Mia, Open Made Italia, Villa Aurora, Fondazione Vite Salute. Sarà un momento per conoscere chi opera in altre città e per ricaricarsi insieme. Firenze ha premiato con una targa il progetto Marciapiedi Didattico di Adra Italia. La consegna si è svolta a Palazzo Vecchio, nell'ambito della Giornata Nazionale delle Vittime della Strada. Il Marciapiedi Didattico è una struttura modulare in legno che riproduce un marciapiede con le difficoltà e gli ostacoli che le persone disabili devono affrontare ogni giorno. La struttura viene portata nelle scuole per insensibilizzare gli studenti e finora ha raggiunto più di mille ragazzi e ragazze. Inoltre, il Marciapiedi Didattico fa parte delle chiavi della città del Comune di Firenze, il portafoglio che accoglie tutti i progetti educativi e formativi per le scuole. A novembre, i Ministeri della Famiglia nazionali hanno organizzato due corsi di formazione per i direttori locali. Il primo si è svolto nella struttura di Valle Grande, in Sicilia, con ospiti e responsabili mondiali del Dipartimento. Il secondo si è tenuto nel centro di Poppi, in Toscana, con ospiti e responsabili dei Ministeri della Famiglia della Regione Intereuropea. Gli eventi hanno avuto l'obiettivo di formare i direttori locali a costruire matrimoni e famiglie forti. Adra, in Romania, ha ricevuto più di 860.000 euro dall'organizzazione umanitaria Plan International per assicere circa 3.700 profughi ucraini ospitati nel paese. Il progetto durerà 4 mesi ed è rivolto in particolare a bambini e adolescenti. Prevede corsi per favorire l'integrazione e migliorare la salute mentale e altri servizi e attività. Parla di Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli. Il nuovo quaderno, 16 giorni per vincere la violenza, prodotto dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia. Questo numero, spiega la curatrice, è dedicato alle donne iraniane e afghane e alla loro coraggiosa ribellione contro i regimi ispirati dal fanatismo religioso. Dal 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e fino al 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, il quaderno propone una riflessione quotidiana, contesto biblico, commento e preghiera. Puoi scaricarlo dal sito ministerifemminili.aventista.it Era l'ultima notizia di oggi. L'informazione continua su opomedia.it con articoli, video, podcast, dirette radio e tv. Ci salutiamo con un pensiero biblico dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata dalla redazione del Videogiornale Adventista.